All'Aquila le farmacie comunali della FM dal giorno della firma del protocollo d'intesa tra il commissario Figliuolo, Assofarma, Federfarma e Farmacie Unite hanno aderito alla vendita delle mascherine FFP2 a prezzo calmerato, vale a dire a 75 centesimi. Anche diverse private lo hanno fatto in città. Un accordo importante, quello sottoscritto a livello nazionale, perché in questa fase così complicata, al di là degli obblighi di indossarli in alcune circostanze, sono mascherine più sicure e protettive rispetto alle normali chirurgiche, che verranno fornite gratuitamente anche agli operatori della scuola. Obbligo dunque ma anche necessità per tutelare le fasce più deboli e visto che si temeva l'assalto a questo tipo di mascherine con il rischio di prezzi più alti, l'accordo è particolarmente significativo. Mascherine di qualità e sicuramente mascherine utili perché la vita dei cittadini possa essere il più normale possibile ad ambiento a tutte le normative emanate e soprattutto alle ultime che prevedono l'uso della mascherina per l'attività quotidiana dei cittadini, mascherina FFP2. Le farmacie, come per altri protocolli, hanno risposto con interesse e con entusiasmo a questa iniziativa e così come è stata fatta per la vaccinazione anti-influenzale, la vaccinazione anti-covid-19 così come per i tamponi. Ulteriori sacrifici in questa vendita di FFP2 saranno fatti tenendo sempre presente che l'obiettivo principale per le farmacie, per i farmacisti e operatori della salute è la salute dei cittadini stessi. Le farmacie dimostrano di essere un ulteriore vincolo forte di trasmissione della sanità fra i cittadini e il Servizio Sanitario Nazionale e le farmacie hanno di nuovo dato la propria disponibilità rafforzando il proprio ruolo di Servizio Sanitario Nazionale e anche sulle mascherine FFP2 io mi auguro che ci sia la massima adesione da parte delle farmacie stesse. Fino al 31 marzo 2022 la cifra è garantita ma si va di bene solo per le farmacie che aderiranno al protocollo. Le FFP2, obbligatori e spettacoli aperti al pubblico all'aperto al chiuso in teatri, sale di concerto, cinema, locali di intrattenimento in competizioni sportive al chiuso all'aperto ma anche sui mezzi di trasporto e in base alle nuove regole sulle quarantene anche per contatti di positivi ma asintomatici e in autosorveglianza sino al decimo giorno successivo al contatto col soggetto positivo.